Torna a farsi sentire il caro carburanti. Sono ormai molti mesi che si parla del caro benzina che ha colpito l'economia e di conseguenza anche i cittadini italiani. Le fibrillazioni internazionali e la crisi del Mar Rosso stanno determinando costanti aumenti del prezzo del petrolio. Il carburante è uno dei beni essenziali per ogni cittadino che utilizza l'automobile per gli spostamenti quotidiani e non solo. I dati che sono stati raccolti non sono affatto incoraggianti e anzi mostrano un problema che sta diventando veramente serio per gli italiani. In alcune stazioni di servizio benzina e diesel hanno ormai sfondato il muro dei 2 euro al litro. Soltanto alle pompe self-service è possibile risparmiare qualche centesimo. La Calabria, secondo i dati pubblicati dall'Unione Nazionale ai Consumatori, è tra le regioni più care d'Italia per quanto riguarda i carburanti. Particolarmente colpiti tutti coloro che viaggiano con la loro automobile in maniera quotidiana e che hanno quindi bisogno di fare un pieno più spesso. L'aumento dei prezzi che i carburanti hanno subito spingono gli automobilisti a cercare delle alternative che siano abbastanza valide a tal punto da riuscire ad offrire un buon risparmio. La prima tra tutte è ovviamente l'auto elettrica che secondo alcuni studi specifici permetterebbe all'automobilista di ottenere un risparmio piuttosto elevato nell'arco dell'anno. Per coloro che invece guidano soprattutto in città altrettanto buona è l'alternativa ibrida. Ovviamente non mancano una serie di consigli sul come sia possibile risparmiare anche utilizzando l'auto in maniera quotidiana ma resta da sottolineare quanto le cifre che sono state raggiunte siano veramente assurde. Secondo i dati raccolti da Osserva Prezzi del Mimit l'andamento al rialzo non sembra arrestarsi molto facilmente e intanto il Kodakons ha calcolato che da inizio anno il pieno costa 7,3 euro in più mentre Assoutenti sottolinea che in autostrada si arriva a picchi di 2,5 euro per la verde al servito con ripercussioni pesanti sui prodotti trasportati considerato che in Italia l'88 per cento delle merci viaggia su gomma.